Buon pomeriggio, popolo rosso nero, popolo del bandito, se apprezzerete il contenuto ironico di questo video mettete un like al video, iscrivetevi al canale, mi raccomando è gratuito, ringrazio gli abbonati, campanella per le notifiche ovviamente per restare sempre in contatto e ricevere immediatamente il video. Allora, direi che il caso è chiuso, come direbbe Colombo, Sherlock Holmes, McGree, il caso è chiuso, Commisso aveva avanzato dei dubbi, c'è un fascicolo aperto della Procura di Milano, il fascicolo 45 in attesa di risposta, ma possiamo chiuderlo qui. Cioè è inutile continuare a farsi domande, a se funziona il microfono, è inutile a risposta, a risposta. All'ennesimo premio, ennesimo premio Fair Play, è stata l'occasione, tra l'altro il nero e orocco, premio Fair Play, nero e orocco, è stata l'occasione per ricevere l'ennesimo premio, per avere la solita spianata di microfoni perché bisognava rispondere qualcosa a commisso e quindi il caso è chiuso. Signore, il caso è chiuso. Lui ha dichiarato che non c'è stato nessun mancato adempimento né in Italia né in Europa né in FIGC né in UEFA. Tutto è a posto, tutto in ordine, tutto è stato fatto nel migliore dei modi, tutto è perfetto. Insomma, tutto quello che è successo in questi ultimi anni è tutto frutto della sapienza calcistica, della lungimiranza di quest'uomo che ha vinto nove degli ultimi tredici scudetti. Credo che sia giusta la statistica, nove degli ultimi tredici scudetti, un grandissimo lavoro a Torino dove alcune malelingue cartonate osavano mettere in dubbio, la bravura, il lavoro eccezionale svolto dalla persona in questione, alcuni dubitavano, alcuni mettevano in giro strane voci, ma lui ha sempre smentito tutto e tutti. Come ha fatto questa volta, ha avuto un piccolo litigio con Agnelli, è dovuto andare via, ma ha ricominciato da dove l'aveva lasciato, cioè vincendo. Lui è così, lui vince, lui vince, lui vince sempre. E quindi bisogna, bisogna solo che applaudire, non avere dubbi e non farsi domande perché tutto va bene così. E' inutile fare esposti, tanto non ti rispondono, abbiamo già capito, non avranno mai risposta a quegli esposti, anche se in termini di proprio, quando si fa una domanda a un ufficio pubblico, la risposta sarebbe obbligata, ma non c'è bisogno di avere risposte, perché lui ha già risposto. E va bene così, è tutto, è a posto così. Anche noi che siamo in questo momento drammatico, noi tifosi del Milan, perché non abbiamo avuto la lungimiranza, la scaltrezza di tuffarci su un personaggio in questione quando è andato via dallo Juventus, e noi paghiamo questo, sicuramente paghiamo assolutamente questo, e quindi noi dobbiamo stare in silenzio, osservare, applaudire e non farci troppe domande. Dobbiamo solo ammirare il lavoro svolto e come è stato svolto, con quale precisione, con quale oculatezza dal punto di vista economico, tutto in ordine dal punto di vista dei controlli Covizoc, e quindi non ci sono domande da farsi, è tutto a posto, tutto è perfetto. Ce lo dicono in fondo, ce lo dicono tutti. Ce lo dice il Presidente Gravina, come non fidarci del Presidente Gravina. Ce lo dice Miglione, Miglione, quello che si occupa dell'ufficio indagini, che talmente è sicuro che tutto è a posto, che tutto è in ordine, che tutto è recisissimo, che insomma si spinge ad andare a festeggiare lo scudetto, perché tanto lui sa che tutto è a posto, che tutto è stato fatto nel migliore dei modi. Quindi non avendo scheletri negli armadi, lui dice posso tranquillamente manifestare il mio amore, la mia passione, la mia stima e festeggiare. Quindi tutto è a posto, ce lo dice il Presidente della Lega Casini, ce lo dice il Presidente della Lega Casini, è tutto a posto. Ce lo dice Rocchi, Rocchi ci dice che tutto è a posto, che lui va a San Siro nella hospitality perché è più comoda quella dell'Inter rispetto a quella del Milan. Cioè quando gioca l'Inter le sedie sono un po' più comode, perché loro giustamente avendo un DS, avendo un personaggio di quel livello che gestisce, tutto è messo a posto. Cioè quindi anche il braccialetto figo su cui tanti hanno dubitato, ma si fa a dubitare ragazzi. Noi lo vedremo anche quando va a vedere la Juventus allo Stadium, quando va a vedere la Roma all'Olimpico, quando va a vedere il Milan a San Siro, lo vedremo con un bel braccialetto dell'ospitality. funziona così, funziona così. Voi dite non l'abbiamo mai visto prima, vabbè ma perché è questo, siete voi che siete malpensanti, siete voi che avete un retropensiero che non è giusto, non è giusto. Ma se uno col microfono va a fargli la domanda, lui sicuramente avrà una spiegazione e dirà che tutto è in regola, è che l'Inter essendo molto ospitale, da hospitality molto ospitale, e lui, cioè loro hanno questi personaggi importanti che vanno a vedere le loro partite e loro giustamente devono garantire un servizio elite, visto che sono personaggi d'elite, noi siamo dei poveracci in questo momento, non possiamo permetterci di avere allo stadio Ceferi, Infantino, Rocchi, Gravina, Viglione, La Russa, noi non possiamo permetterci in questo momento perché siamo dei poveracci che senza un DS che non sanno gestire una squadra di calcio, quindi dobbiamo stare zitti e osservare tutti invece questi personaggi influenti che affollano l'ospitality di San Siro e quindi è giusto che la società che li ospita garantisca cibo di qualità, poi non è mai che vai che Rocchi, che magari non lo conoscono quelli che servono il pranzo e la cena, vanno lì, va lì senza il braccialetto e questi magari gli dicono no, non è il braccialetto, devi pagare, sia mai, non sia mai, che vuoi che paga il disegnatore arbitrale? no, è giusto, essendo nell'ospitality deve essere ospitato e quindi giustamente sfoggia il bel braccialetto e noi dobbiamo solo stare zitti, anzi imparare, tant'è che in Milan News, che è un'attestata che in teoria dovrebbe parlare di Milan, ogni due o tre giorni per insegnarci come si fa, perché è giusto che loro divulghino la loro bravura, la loro competenza, le gesta di questo personaggio che non ho dubbi, presto sarà anche santificato, penso, dal Vaticano, non ho dubbio in proposito, e quindi cosa fa Milan News? Non è che chiede pareri ai milanisti, perché si sa i milanisti sono tutti aziendalisti, sono tutti le capiedi di Cardinale, quindi vuoi mai chiedere a un milanista cosa dovrebbe fare Cardinale per cambiare la situazione? Loro si portano avanti e lo chiedono direttamente al portavoce di colui che diventerà santo, quindi al famoso Biasin, quello che è di fatto il portavoce del personaggio in questione, quindi mi sembra una mossa logica e astuta, visto che non possiamo avere le consulenze, le gesta di quest'uomo unico, meraviglioso, inimitabile, che è riuscita a unire la tifoseria juventina e la tifoseria interista in una serie incredibile di vittorie, e non solo in quello, noi dobbiamo, non potendo usufruire delle sue competenze, chiediamo al suo portavoce di darci qualche consiglio gratis, perché siamo poveri, non abbiamo una lira, il Cardinale non li vuole spendere, quindi Milan News si è offerto di fare da tramite, dice va bene, ma noi ogni tanto, ogni due o tre giorni, con la scusa di intervistare Biasin, noi piazziamo l'opinione di Biasin che in realtà è l'opinione di Marotta, e quindi magari qualcosa impariamo, e quindi noi tifosi milanisti, intelligenti e avveduti, intelligenti e avveduti, anziché seguire quelle capiedi che continuano a difendere la società indifendibile, ascoltiamo i consigli che ci dà Biasin. È un po' come se avessimo Marotta a disposizione, capito, è una cosa da sfruttare, è una cosa da usare, ops, l'ho detto, algoritmo, perdonami, ma... è una cosa da sfruttare, è una cosa da usare, è una cosa buona e giusta, perché bisogna riconoscere la bravura, la competenza, la perfezione di un uomo immacolato, e quindi noi giustamente chiediamo al suo portavoce qualche consiglio, adesso ci ha dato un consiglio sicuramente spassionato, oggi leggevo, ci ha consigliato di, anzi ha consigliato Cardinale, che deve rischiare un po', devi rischiare un po', cioè Cardinale, non puoi fare sempre quello col braccino corto, devi rischiare un po', fai come ha fatto Zhang, fai come ha fatto lui, si può fare, tranquillo Cardinale, si può fare, rischi di finire, magari che non ti fanno più uscire dagli Stati Uniti, e finisci in bancarotta, però quello che conta, quello che conta, è che poi ci sia qualcuno che dice, va tutto bene, è tutto a posto, tutto è stato fatto nel migliore dei modi, e a chiunque chiedete, vi dirà che è così, infatti, è così, ha convinto anche me che ero un po' più dubbioso, ero un po' più, come si dice in una parola, recalcitrante, ero un po' più recalcitrante, io avevo dei dubbi, devo confessarlo, mi do la pacca sulle mani, perché io ho qualche dubbio, ce l'avevo, sul fatto che, nove scudetti in tredici anni, in due squadre diverse, qualche dubbio mi era venuto, ma io adesso, io adesso farò, una camminata, in ginocchio, sui ceci, per quella che è questa, sono, quattro metri, cinque metri, ho già buttato i ceci a terra, sono grossi così, sono grossi così, ma mancavano un po' di ceci, ho messo un po' di sassi, spero vado almeno lo stesso, e io, piano piano, con le ginocchia, di un 54enne, assolverò a questo, giusto, giusto, a questa giusta penitenza, che devo fare, per avere dubitato, per avere dubitato, sempre sia lodato, e l'uomo, Grazie a tutti.